Presto per definirla una valuta vera e propria, ma se non altro, negli Stati Uniti, Bitcoin è assurda al rango di materia prima. A classificare in tal modo tutte le monete virtuali è stata la CFTC, ovvero l'autorità che regola gli scambi di contratti derivati e futures, appunto, delle materie prime. Un problema, quello della definizione dei nuovi strumenti telematici, su cui da tempo il mercato si interrogava. Le conseguenze? La CFTC si arrogerà il diritto di punire le trasgressioni e soprattutto getterà un fascio di luce su un ambito il cui successo è legato anche alla mancanza di trasparenza.